Un ulteriore passo dopo la scelta di bandire sostanzialmente la plastica monouso non biodegradabile dalle nostre spiagge a partire dal primo agosto di quest'anno. Vogliamo aggiungere a questo tassello un altro per completare il mosaico, questo anche su sollecitazione, mi piace sottolinearlo, della mobilitazione di tante ragazze, tanti ragazzi, tanti cittadini che in questi mesi si sono attivati per la pulizia della nostra città, in particolare delle zone delle spiagge, con un occhio di attenzione in particolare a un rifiuto che è quello dei mozziconi di sigaretta, che effettivamente è un rifiuto che viene sottovalutato come pericolosità non solo per l'ambiente ma anche per la salute. Allora oggi la Giunta Comunale ha fatto la scelta di approvare una proposta di modifica al regolamento di gestione dei rifiuti che verrà trasmessa al Consiglio Comunale del 30 di luglio per proporre un doppio divieto, uno quello di abbandono dei rifiuti prodotti dal fumo in tutte le aree del littorale marittimo che si qualificano come lido, battigia, spiaggia, ma anche quello del divieto di fumo in queste aree, questo proprio per garantire non solo l'ambiente ma anche la salute, ovviamente dando la possibilità ai concessionari delle aree attrezzate di poter prevedere per il futuro una serie di spazi dedicati ai fumatori ma nel rispetto delle regole, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto soprattutto della salute degli altri cittadini. Questa è la proposta che la Giunta ha intenzione di portare in Consiglio Comunale nei prossimi giorni a partire appunto dal primo di agosto allineando quindi in qualche modo questa disposizione a quella che abbiamo già messo in campo per la plastica.